Dal 21 al 28 gennaio 2023 ci sarà un importantissimo evento sportivo nella nostra regione, ovvero il Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea, IEIOF 2023. È stata scelta la nostra regione perché offre un magnifico spettacolo dal punto di vista paesaggistico, ha grande capacità turistica ma soprattutto nel passato ha dimostrato di avere una grande capacità organizzativa e proprio per questo oggi abbiamo bisogno di te, di tutti quei volontari che si mettono a disposizione per aiutare l'organizzazione a far sì che questo evento internazionale nel nostro territorio abbia successo. Se vuoi vivere emozioni ed esperienze uniche entra anche tu nel team dei volontari di IEIOF 2023. Io sono Friuli Venezia Giulia, noi siamo Friuli Venezia Giulia, dimostriamola al mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.